Vorrei adesso chiedere al professor Jonathan Salvetti, assessore alla cultura del Comune di Marciano, che ci illustri un po' tutte le iniziative natalizie organizzate dal Comune. Mi fa piacere innanzitutto sottolineare che tutti gli eventi natalizi sono stati possibili grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e tra negozianti e imprenditori locali che hanno contribuito anche economicamente a realizzare alcuni degli eventi. In primis vorrei citare che saranno allestite le luminarie in tutte le frazioni, quindi nel capoluogo e nelle frazioni, e sarà allestito il presepe qui nel Giardino della Rocca e tornerà all'iniziativa proposta l'anno scorso della musica in filodiffusione la sera, sia dalla Torre di Marciano che dal Campanile di Cesa. A queste iniziative, che ci accompagneranno dall'8 di dicembre al 6 di gennaio, si accompagneranno una serie di eventi che invece verranno fatti qui nella Rocca di Marciano. Partiremo dal 22 con un concerto di Evansamble, poi il 26 di dicembre Santo Stefano tornerà il Toscana Gospel Festival che purtroppo l'anno scorso abbiamo dovuto saltare causa Covid, tornerà quest'anno con una rappresentativa italiana che si esibirà appunto il 26 sera. Poi a seguire il 2 di gennaio avremo un doppio appuntamento, avremo un circo itinerante che si sposterà quindi da Marciano, capoluogo, a Cese e a Badicorte, con una serie di spettacoli che coinvolgeranno giocolieri e maghi per intrattenere i più piccoli. E contemporaneamente nel pomeriggio di domenica 2 sempre, ci sarà qui all'interno della Rocca un mercatino dei libri usati della nostra biblioteca. Faremo questo mercatino, è la prima volta che lo facciamo, stiamo ripristinando la biblioteca e nella scelta dei libri abbiamo trovato dei volumi che possono essere, diciamo, destinati alla popolazione e ci farà molto piacere venderli per poter così finanziare l'acquisto di nuovi volumi da mettere all'interno della nostra biblioteca appunto. Finiamo il 22 di gennaio con il concerto di inizio anno classico della filarmonica che si terrà sempre qui nella Rocca.